L'obiettivo è molto ambizioso ma nasce da tutto il progetto che da mesi noi stiamo preparando con tutte le difficoltà che ben conoscete. La campagna acquisti mi sembra che è stata accettata dai tifosi di buon grado e sono contenti. Io ho promesso che l'asticella si doveva alzare. L'abbiamo alzata ma ancora va completata. Deve essere un arezzo di vertice perché fino ad oggi ha avuto sempre una posizione che non gli compete. Io sono scaramantico, non voglio fare pronostici, però c'è tanta buona volontà e mi sembra tanta carne messa sul fuoco, sulla brace. Oggi sarà il ritiro con la squadra? Adesso vado dalla squadra perché purtroppo finora non l'ho potuto fare. Ho voglia di conoscere, di parlarci e scambiare qualche opinione. L'obiettivo è già passare il turno domenica con la Carrarese? Quello senso. È fallita, non è fallita, è commissariata, i giocatori se ne sono dati, chi scende in campo, eccetera, eccetera. Io questo ancora non l'ho capito.